buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è 21 settembre giovedì 2023 arriva l'autunno è arrivato l'autunno cominciamo una nuova stagione e già il tempo comunque un po così cambiato rispetto ai giorni scorsi vediamo il cielo più imbrocciato più nuvoloso e a tratti si vede qualche stella prima che arrivi l'alba però insomma il tempo è alternato lo vedremo dopo nelle lo vedremo quasi subito anzi nelle previsioni del tempo intanto sfogliamo l'almanacco del giorno per vedere che si festeggia oggi e oggi guardatelo è san matteo san matteo apostolo ed evangelista ebbene il suo nome originario era levi ma poi fu tramutato appunto in matteo fu uno dei primi apostoli chiamati da gesù era piuttosto benestante ma lasciò tutto lasciò tutto i suoi affari le sue ricchezze e seguì il maestro scrisse il vangelo in aramaico nella lingua appunto in cui si parlava ai tempi di gesù vangelo che predicò specialmente in africa dopo la dispersione degli apostoli e purtroppo fu trucidato dai pagani mentre celebrava l'eucarestia le sue reliquie sono custodite nella cattedrale di salerno celebre il dipinto di caravaggio che ritrae la sua chiamata una serie di quadri che si trovano a roma e che vengono senz'altro visitati dai turisti e da tutti coloro che visitano la capitale ebbene questo è il santo del giorno ed ora passiamo alle previsioni del tempo ecco la grafica tempo variabile a tratte instabile con piogge al primo mattino poi nel pomeriggio a carattere più sparso e localizzato i venti sulle coste con una tensione debole da sud est nell'interno da sud sud ovest le temperature da 20 a 29 gradi le temperature ancora si mantengono con una tensità estiva quindi è ancora caldo ed ora apriamo il giornale a partire dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano dove si parla di politica e di candidature a sindaco ebbene la campagna elettorale da oggi fino al momento delle elezioni è ancora lunga e ancora ci saranno molte vicende che si alterneranno che cambieranno che si modificheranno fino alla data finale intanto abbiamo tre candidati nel centro-destra uno certo gli altri ancora con un ni con un si con un no insomma devono ancora sciogliere le riserve in pratica abbiamo il centro-destra attende Sir Filippi eccolo qua Luca Sir Filippi che deve ancora sciogliere la sua riserva dovrebbe farlo entro domenica perché domenica c'è un'iniziativa elettorale di Giuseppe De Leo che si presenta formalmente al pubblico con il suo programma un altro candidato del centro-destra è l'assessore regionale Stefano Aguzzi ex sindaco di Fano di Forza Italia e poi Giuseppe De Leo con la sua lista civica il centro-destra fanese attende che il consigliere regionale Luca Sir Filippi che appartiene alla Lega si pronunci sulla sua possibile candidatura a sindaco per le elezioni amministrative del 2024 e onestamente non si sa se questo attendismo di Luca Sir Filippi sia una tattica elettorale o proprio perché lui venga tirato con la giacca forse a fare il sindaco non è che non ci pensasse ma non è che fosse il suo obiettivo primario forse tendeva ad altre situazioni comunque fino ad oggi c'è stato un lungo corteggiamento attuato dai partiti della coalizione che però sembra ora ormai giunto alla fase conclusiva la decisione è infatti attesa nell'arco di una settimana al massimo nel frattempo Giuseppe De Leo direttore generale del comune ai tempi delle giunte Aguzzi sta rispettando le tappe di un percorso che lo proietta a sua volta come un potenziale candidato del centrodestra fanese lui è alla guida di una squadra di forte connotazione civica che voglia lavorare in netta discontinuità rispetto all'attuale amministrazione questo è un po' quello che dice l'articolo ed è il modo con cui poi si presenterà all'elettorato dicevo che domenica ci sarà una convention lo vediamo qui in questo trafiletto dell'ex direttore generale noi civici alternativa a seri questo è un po' il messaggio che viene lanciato a fondo pagina troviamo Luca Rodolfo Paolini ex senatore della Lega ebbene Luca Rodolfo Paolini ieri si è trovato a fronteggiare una situazione particolare ha accompagnato la mamma al pronto soccorso di Fano la mamma purtroppo ha avuto un incidente è caduta dalle scale si è procurata un taglio vistoso che necessitava di punti di sutura ad una mano poi ematomia, la testa, le costole, le gambe era piuttosto dolorante non era particolarmente grave è arrivata al pronto soccorso e prima di ricevere le cure dei medici ha dovuto attendere sei ore e mezza cosa che molti cittadini purtroppo sono costetti ad osservare a seconda della gravità delle loro condizioni ebbene Luca Rodolfo Paolini però è insorto senza minimamente accusare il personale di servizio che onestamente cerca di fare il possibile per attendere alle cure di tutti coloro che hanno bisogno appunto di assistenza Luca Paolini ha attaccato il sistema lui è della Lega ha attaccato, insomma ha messo all'indice la responsabilità della Regione Marche che gestisce la sanità territoriale e chi gestisce la sanità territoriale è un assessore un assessore che fa parte del suo partito della Lega comunque Paolini non ha avuto peli sulla lingua ha detto che il sistema così non va occorrono più assunzioni soprattutto bisogna sgominare quel sistema che privilegia i medici che fanno parte delle cooperative e prendono stipendi più alti dei medici assunti dalla sanità nazionale bisogna equiparare tutti gli stipendi perché poi le prestazioni sono quelle e Luca Paolini ha mandato appunto questo messaggio che chissà non svegli qualcuno del suo partito giriamo ora la pagina e vediamo la seconda apertura del Corriere Adriatico e si parla di un fatto di cronaca un fatto di cronaca relativo ad una rapina eseguita ad un fornaio a cui sono stati sottratti 570 euro ebbene gli autori di questa rapina sono stati individuati e arrestati dalle forze dell'ordine rapina al fornaio presi due giovani si tratta di due albanesi decisivo un controllo dopo il colpo in manette per ordine del GIP un 18enne ed un 33enne extracomunitari uno era stato addirittura riconosciuto dalla vittima perché la rapina era stata fatta a volto scoperto in carcere ora sono a Villa Fastigi di Pesaro questi due giovani accusati di aver rapinato il titolare del forno Ambrosini a Fano nel quartiere di San Lazzaro il fatto è avvenuto il 31 luglio scorso i carabinieri della compagnia di Fano hanno applicato la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro nei confronti delle 18enne che vive a Fano ed un 33enne che da qualche tempo si era stabilito in città ospite della casa di un amico ma residente nel nord Italia temporaneamente era sagiornava nella nostra città e così Toma per insomma vincere la noia aveva pensato di effettuare questa rapina ieri è stata presentata una nuova iniziativa che collega un po' Fano con tutto l'entroterra si tratta di Castelli d'Aria una serie di concerti d'organo che si svolgeranno in diverse località dell'entroterra a partire dal vediamo un attimo si comincia domenica prossima si comincia domenica prossima il 24 settembre a Montemaggiore Poi abbiamo altri concerti che si svolgeranno a San Lorenzo in campo a San Costanzo e poi ancora a Pergola insomma ad altre località del territorio ma è un'iniziativa originale questa organizzata dal Laboratorio Armonico che è poi lo stesso che organizza i concerti di Santa Maria Nuova perché all'iniziativa di carattere musicale ci sono poi musicisti di grande valore perché sono di valore internazionale uno viene dalla Germania uno viene da altri paesi insomma per questa iniziativa ma si ha appunto la combinazione di poter valorizzare tutte le attrattive di questi borghi in cui si svolgono i concerti in cui ci sono organi storici di grande rilevanza e di grande bellezza specialmente per quanto riguarda il suono si valorizzano prodotti come la vernaccia di Pergola oppure il ricamo di alcuni paesi ebbene ci sono attività tipiche tradizionali che vengono poste in evidenza ma c'è anche le bellezze del paesaggio le bellezze delle attrattive culturali di ciascuna località che vengono accostate alla musica ed è veramente un bel binomio a Fano manca un nuovo istituto comprensivo nel piano di dimensionamento provinciale che è stato posto in discussione al tavolo che riunisce tutti i dirigenti scolastici insieme all'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin si è verificata la situazione delle scuole fanesi ebbene la perdita dell'istituto Fa di Bruno di Marotta che è passato appunto sotto il comune di Mondolfo ha fatto sì che Fano sentisse un po' il bisogno di avere una nuova scuola media perché ha ancora due circoli didattici quello di Sant'Orso e quello di San Lazzaro che purtroppo forniscono in maniera esuberante le tre scuole medie che sono esistenti la Paddalino, la Gandiglio e la scuola media Nuti occorre sono 1800 studenti che poi vanno a giungersi a quelli che provengono e che frequentano questi istituti da altre località 1500 studenti sono veramente tanti per ogni istituto occorre una nuova scuola media e chissà da quanto tempo i fanesi magari che abitano in periferia verso, lo so, verso Bellocchi verso Carrara attendono una scuola media che impedisca a tutti questi ragazzi di fare tutto il tragitto verso il centro di Fano dove sono concentrate le scuole medie è un'iniziativa questa che viene lanciata dall'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin che ha riunito il tavolo appunto dei direttori didattici e dei presidi di scuola media insieme ai tecnici comunali e gli esperti comunali per cercare di proporre un nuovo dimensionamento più adatto ad una città di 60.000 abitanti la terza città delle Marche giriamo ancora la pagina e passiamo a Cantiano a Cantiano si parla della Fiera dei Cavalli la presenza anche del Ministro l'Olo Brigida l'Olo Brigida il 26 a Roma con Carloni per l'evento di Cantiano di 8 e 15 ottobre l'alluvione è ormai alle spalle si pensa alla rinascita ma non è dimenticata l'alluvione perché ogni tanto si tengono le manifestazioni la manifestazione del cuore del fango che si è tenuta nei giorni scorso tiene viva ancora quella tensione quella drammaticità di tutta quella esperienza che si è verificata durante l'immersione del fango l'alluvione alle spalle con forza e determinazione Cantiano si sta rialzando l'anno scorso il tragico evento che ha provocato danni ingentissimi aveva causato anche il rinvio della manifestazione Clou quella che ravviva un po' l'economia dell'entroterra era l'edizione della Fiera dei Cavalli un tempo un successo continuo un successo incalzante che ora si rinnova un segno della ripartenza economica del territorio a un anno dall'alluvione vediamo anche la pagina di Senigallia dove purtroppo c'è un lutto ed è un lutto grave perché ha coinvolto un bambino a dieci anni è stato travolto in bicicletta da un'auto muore sotto gli occhi di un amichetto tragico incidente a Marzocca il piccolo si chiamava Francesco è stato subito soccorso e intubato ma è deceduto all'ospedale e lo vediamo qui in un momento felice della sua esistenza piange il cuore vedere questa foto si stava divertendo con l'amichetto sulle loro biciclette all'incrocio la tragedia un'auto ha travolto uno dei due il volo sull'asfalto il sangue i soccorsi le lacrime dei genitori mescolati e le priere non ce l'ha fatta Francesco è morto all'ospedale per i traumi devastanti riportati alla testa e al torace a ottobre aveva festeggiato undici anni e non leggiamo oltre picchia la compagna lei lo denuncia ora scatto il divieto di avvicinamento allarme dei residenti arrivano i carabinieri la comandante Felicia Basilicata la vedete qui in questa foto dice donne trovate il coraggio di ribellarvi è stata veramente salvata dai carabinieri questa donna che sono stati avvisati dai vicini si tratta di una giovane donna vittima di violenza lei è stata accompagnata al pronto soccorso dove è stata dimessa con 15 giorni di prognosi mentre al convivente si tratta di un e 39enne è stato notificato un divieto di avvicinamento per due giorni consecutivi i militari sono stati a casa della coppia italiana chiamati dai vicini che sentendo le urla hanno temuto per l'incolumità della donna e quindi bisogna intervenire tempestivamente e non magari trascurare il primo avviso per poi trovare al secondo quando magari è troppo tardi ebbene allora passiamo alle pagine di Pesaro dove l'apertura è dedicata a un settore importante dell'economia provinciale si tratta dell'edilizia edilizia residenziale quella delle case è una filiera vicina al collasso economico purtroppo associazioni e imprenditori registrano nel settore una frenata di oltre il 6% grazie al super bonus l'edilizia aveva avuto una rinascita molto 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 rapida vorrei dire e convulsa dopo un periodo in precedenza di stasi che insomma languiva faceva languire molte molte imprese edilizie ma ora si tratta di ridiscendere la china e in quest'articolo si fa un focus sulla situazione attuale vediamo che c'è un calo del 6 dell'8% per quanto riguarda l'attività edilizia nelle marche soprattutto nella provincia di Pesaro Urbino rispetto al gennaio del 2023 solo il 74,1% dei lavoratori sui condomini che scadono il 31 dicembre sono stati completati da gennaio 2024 l'agevolazione passa al 70% e quindi cala e sappiamo quanto incide il super bonus nelle casse del governo circa 300 interventi a rischio in bilico aziende lavoratori sindacati in allarme bolla che partorirà esuberi e cassa integrazione ebbene il tema del super bonus ha generato centinaia di cantieri che ora con la marcia indietro del governo si trovano a rischio e faticano ad arrivare a conclusione gli vende una cassa di frutta poi gli strappa il portafoglio intercettato e arrestato dai militari prodotti sequestrati e donati in beneficenza ebbene un fatto che è avvenuto a Pesaro si tratta di un furto un uomo vende una cassa di frutta e poi strappa i soldi dalle mani rintracciato dai careminieri con il targa system è stato arrestato e questo qui ha una lunga lista di precedenti e soprattutto il modus perandi sempre identico quindi non è stato difficile per gli inquirenti appunto individuarlo ed arrestarlo nuova stazione via e lavori sarà sostenibile e moderna il sindaco ricapitola gli interventi un secondo ingresso parcheggi e spazi ciclabili ebbene la stazione ferroviaria di Pesaro ormai accusa gli anni che vanta dalla sua costruzione e ora si attrezza per rendere appunto il servizio più moderno più efficiente più idoneo ad una città importante di 100.000 abitanti insomma la seconda città delle Marche e quindi entrano nel vivo i lavori per la riqualificazione della stazione un restyling addirittura di 16 milioni di euro 8 milioni di investimenti da parte delle ferrovie dello Stato e 8 da parte del Comune quindi ci sono due enti che collaborano a vicenda si tratta di un'importante opera di modernizzazione per tutto il territorio ha sottolineato il sindaco Matteo Ricci la nostra è una stazione principale della provincia ovviamente questo è quant'è e vediamo anche la pagina di Urbino sul Corriere Adriatico si parla di politica Scaramucci beh nessun inciucio questa alleanza va bene così Rossi capogruppo della lista e il sindaco escludono proposte all'ex segretario del Partito Democratico ascolto tante persone per parlare di politica come tra l'altro ha fatto fa e farà Federico Scaramucci ho parlato anche con lui in quanto persona che rispetto stimo professionalmente Nicola Rossi interviene sulla questione che ha messo in subuglio negli ultimi giorni la politica fanese ed ora passiamo al resto del Carlino l'apertura sul giornale di Bologna la sede del Carlino è a Bologna diciamo così è dedicata alla cronaca rapinarono un fornaio arrestati uno dei due tradito dalle lucche sì da come era vestito perché poi le immagini che hanno visionato i carabinieri hanno appunto puntato sui vestiti un segno riconoscibile per poi questi vestiti sono stati ritrovati e hanno permesso di individuare uno dei due rapinatori era vestito in modo bizzarro si tratta del 33enne albanese autore dell'aggressione ai danni di Marco Ambrosini il fornaio e questo non è uno scherzo il comune eccolo qua regala erba sintetica vedete questi rotoli di erba sintetica erano quelli che ricoprivano il campo del vallato il campo di Vittorio del Curto così è stato denominato questo campo sportivo campo che riceverà un nuovo manto erboso che cosa fare del vecchio ebbene il comune ha deciso di regalarlo ovviamente non può regalarlo ai privati ma lo regalerà alle associazioni ai gruppi no profit insomma a coloro che svolgono un'attività di carattere sociale e la priorità conta per chi farà domanda per ricevere appunto questo importante sussidio perché non sono soldi ma è un materiale prezioso che può servire in tante occasioni demenza un sostegno in più per le famiglie oggi è la giornata mondiale dell'Alzheimer a Fano esiste uno sportello per aiutare i malati e i loro cari ne abbiamo in carico ben 23 23 famiglie ed è lo sportello che viene gestito attivato anzi dal consultorio diocesano la famiglia diretto da Don Francesco Pierpaoli con l'aiuto della Caritas e il contributo economico della fondazione Carifano uno sportello che oggi festeggia la giornata mondiale dell'Alzheimer restituita nel 1994 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità al momento sono 23 le famiglie del territorio prese in carico dal servizio ma altrettante ne sono passate quest'anno per essere poi dirottate su altri servizi più specifici e anche solo per informarsi bene la malattia dell'Alzheimer è una malattia grave che così mina la salute delle persone ma incombe anche sulle famiglie che devono assistere queste persone perché l'assistenza pubblica in questo settore difetta e difetta parecchio sono centinaia i fanesi che tutti i giorni di tutto l'anno si trovano ad affrontare i problemi di una malattia ancora poco conosciuta e spaventosa in quanto separa il corpo dalla mente disorienta e fa dimenticare anche gli effetti più veri la persona che ne è affetta si estranea completamente non riconosce più figli nipoti parenti insomma e diventa veramente una situazione penosa grave per assisterla e quindi è importante sollevare l'attenzione su questo aspetto la fanurbino un binario morto l'indagine da un milione è nel cassetto fu un'indagine che fu attivata dall'allora senatrice sottosegretaria Coto del Movimento 5 Stelle e al Ministero nessuno lo chiede questo studio Biancani del Partito Democratico il consigliere regionale dice la regione ha cambiato idea o l'esito non è quello atteso e quindi si cerca di risvegliare l'attenzione su questo atteggiamento forse molti non sono contenti perché c'è una tesi c'è una fazione molto molto contraria ripristino della ferrovia Fano Urbino comunque il governo aveva deciso di ripristinarla e quindi queste cose messe in un cantone poi magari pagate a suon di soldi a suon di milioni come in questo caso lascia perplessi primaria affollate ma i sondaggi mi premiano un'intervista di Anna Marchetti a Samuele Mascherini che in questi giorni è un po' sulla caesta dell'onda sulla caesta dell'onda per quanto riguarda i servizi scolastici poi anche appunto per il dimensionamento delle scuole ma anche per le elezioni politiche in quanto Samuele Mascherini è l'unico nella coalizione di centro-sinistra che ha proposto la sua candidatura nell'ambito delle primarie ebbene quanto si terranno queste primarie Samuele Mascherini d'accordo con il sindaco che si tengono il prima possibile e non il prossimo anno come magari sostiene il segretario del partito democratico Minardi vediamo la risposta a qualche domanda a ragione seri le primarie vanno convocate subito definendo un manifesto programmatico del centro-sinistra che impegni tutti i candidati ebbene per quanto riguarda una delle domande più critiche quelle che riguardano la strada di Gimarra se lei dovesse diventare sindaco che fine farebbe il progetto ebbene la risposta è un po' sibilina ad oggi la proroga non c'è il problema potrebbe non porsi è vero è vero è vero anche questo comunque se Pano perdesse 20 milioni di euro dalla regione Marche ebbene sarebbe una sconfitta che non può passare in secondo piano Libertas 40 anni di ginnastica dagli 80 in giù sono ben 9 i decani che non rinunciano al fitness questo per quanto riguarda Marotta e un'ultima notizia è quella dei pali della luce per finire l'heliporto che si realizzano ad Urbino e questo è tutto per il momento siamo molto molto in ritardo chiudiamo subito la nostra rassegna stampa e vi do appuntamento a domani alle 7 grazie per l'ascolto risentirci grazie